Ben ritrovati da Simone Nardone a un nuovo appuntamento con il giornale radio locale. Nei giorni scorsi la squadra mobile di Gaeta ha arrestato un cittadino albanese di 30 anni in quanto su di lui pendeva un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità della Francia. Quest'ultimo era ritenuto responsabile del reato di produzione, vendita e acquisto illecito di droga ed era stato condannato per il traffico di stupefacenti tra il 2019 e il 2020. Nei giorni scorsi gli agenti di Gaeta lo hanno convocato presso il locale ufficio immigrazione per chiedere i chiarimenti in merito alla sua richiesta di permesso di soggiorno e, al termine degli atti, è stato arrestato. Il giallo della ragazza di 23 anni, morta e investita presumibilmente da un'auto pirata sulla Cassino Sora lunedì della scorsa settimana, potrebbe essere vicino ad una soluzione. Gli inquirenti stanno lavorando su un numero ristretto di auto individuate tra le autorimesse, le carrozzerie e i meccanici con danni considerati compatibili con l'investimento. Secondo le indiscrezioni, le indagini sarebbero al momento ristrette tra 10-12 auto al massimo. Una giornata di passione per i cittadini di fondi che ieri hanno dovuto fare i conti con grandissimi disagi sulla telefonia sia fissa che mobile, coinvolti quasi tutti gli operatori telefonici con disagi diversi, dalla connessione lenta all'indisponibilità della rete, fino al temporaneo o anche completo blackout delle comunicazioni sia da smartphone che con i telefoni fissi. I disagi iniziati a inizio giornata di ieri sono terminati solo nella nottata appena trascorsa. Nella giornata di ieri in grande affanno anche i servizi basilari, quali ad esempio quelli delle banche e degli uffici pubblici. Guardia Costiera di Formia e Carabinieri hanno denunciato nei giorni scorsi un ormeggiatore del posto presso la darsena di Caposele. Secondo quanto reso noto dalle forze dell'ordine, l'uomo non aveva rispettato il titolo concessorio rilasciato dal comune. Oltre alla denuncia, l'uomo è stata accertata una violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comunale ovvero aveva posto in opera strutture di non facile rimozione. Per tale motivo, oltre alla diffida e a ripristinare lo stato dei luoghi, questo è stato anche multato con un verbale di oltre 1000 euro. Il consigliere comunale di Fondi Vera, Francesco Ciccone, è intervenuto per quanto riguarda la questione della criticità del traffico nel parcheggio nei pressi della scuola elementare Domenico Purificato di Fondi che insiste nei pressi della nascente struttura del teatro comunale. Come evidenziato da Ciccone, il traffico finisce per congestionarsi sia all'ora di ingresso ma ancora più all'ora di uscita dei ragazzi. Per questo il consigliere comunale di minoranza fa sapere di aver inoltrato una proposta al sindaco, all'assessore della viabilità e anche al comandante della polizia locale per invertire la segnaletica orizzontale del parcheggio facendo in modo che i sensi unici in uscita diventino due e uno solo invece sia quello in ingresso al parcheggio. Questa era la nostra ultima notizia, un saluto da Simone Nardone a risentirci alla prossima edizione del GR Locale.